È una questione di principi, per dire, nel giornalismo, come abbiamo detto, quando uno viene scoperto, il suo nome viene legato al non essere stato corretto a vita, o quasi. In altri ambiti non succede, tipo nella fotografia di moda o le copertine con l'attrice, la cantante, quello che è, la manipolazione, la diamo per scontata. In realtà, non è che c'è uno che ci ha detto, guardate, pubblichiamo la foto di Madonna, sappiate che è post prodotta.